Arriva la sentenza di primo grado per gli imputati del processo Camarathon, l'inchiesta che nel maggio del 2019 portò all'esecuzione di diverse misure cautelarie che ha portato a processo 44 imputati che fino al 2016 avevano rivestito la carica di amministratori locali, dirigenti e dipendenti del comune di Camerota, consulenti, in tal caso fornitori. A febbraio di quest'anno era terminata l'istruttoria dibattimentale, protrattasi per decine e decine di udienze attraverso l'esame di numerosissimi testimoni, di consulenti tecnici e l'esame di alcuni tra gli imputati e toccò al PM titolare dell'indagine Vincenzo Palumbo ottenere una lunga requisitoria con la quale si riassunsero le fasi delle indagini effettuate soprattutto attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche ed analizzato il dipanarsi del processo attraverso i diversi momenti. Sono arrivate le condanne di primo grado, adesso riguardano una ferita ancora aperta per Camerota. Per Antonio Romano, all'epoca sindaco del comune cilentano, il pubblico ministero aveva richiesto una condanna di 11 anni e 3 mesi, trasformata invece in un provvedimento di 13 anni e 5 mesi di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per Antonio Troccoli, ex sindaco di Camerota, all'epoca dei fatti capo di gabinetto e direttore generale, il PM aveva chiesto la stessa condanna di Romano, mentre la pronuncia dice 12 anni e 10 mesi di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per Ciro Troccoli, figlio di Antonio Troccoli, assessore all'epoca dei fatti, pena di 5 anni e 6 mesi con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per Rosario Abate, anche lui componente della Giunta Romano, chiesti 11 anni dal PM, divenuti ora 14 anni e 10 giorni di reclusione nella sentenza con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il vice sindaco della Giunta Romano, Michele del Duca, medico, è stato condannato ad un anno ed 8 mesi. Per Antonio Ciociano, invece ex comandante dei vigili urbani di Camerota, pena di 3 anni e 5 mesi con l'interdizione di 5 anni dei pubblici uffici. Per Fernando Cammarano, una condanna a 6 anni con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Un anno a Roberto Cavaliere. Per Raffaella Di Bello, 4 anni, 9 mesi e 20 giorni con l'interdizione per 5 anni dei pubblici uffici. Per il presidente del Consiglio Comunale dell'epoca, Alfonso Esposito, il PM aveva chiesto un anno, il dispositivo invece parla di un anno ed 8 mesi. Per l'architetto Antonietta Coraggio, invece, condanna di 4 anni ed interdizione di 5 anni dei pubblici uffici. Provvedimento identico anche per Giancarlo Saggiamo, mentre per Vincenzo Bovi 5 anni con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Condanna 4 anni con l'interdizione di 5 anni dei pubblici uffici per Giuseppe Occhiati. Assolti con residue accuse cadute per decorso del termine di prescrizione. Francesco Fiore, Marco Francesco Di Luca, Domenico Talamo, Giovanni Antonio Cammarano, Osea Antonio Pomarico, Giuseppe Saturno, Massimo Augusti, Silvia Augusti, Alessandro Di Rosario, Nicola Carrato, Paolo Desiderio, Lina Di Lello, Antonio Reda, Orlando Laino, Marco Garofalo, Domenico Ciorciaro, Vicente, Gerardo Di Napoli, Mattia Gerardo Del Duca, Giuseppe Amorelli, Seggio Gargiulo, Sabino Festa, Gabriele Gagliotta, Marco Colucci, Barbara Bottiglieri, Valentina Marsicano, Palma Francesca Principe, Vincenzo De Luca, Lorenzo Calicchio, Mauro Esposito e Cristian De Feo.